buongiorno a tutti da Paolo D'Ambre bentornati a un'altra puntata di Turbo Daily oggi venerdì andiamo a fare il nostro classico recap settimanale delle operazioni che abbiamo in portafoglio andremo poi infine a valutare un'operazione da effettuare con i certificati di BNP Paribas. Diciamo prima che i mercati anche questa mattina aprono in modo molto cauto visto che oggi ci aspetta uno dei dati fondamentali, uno dei dati più importanti che è quello su i non farm payroll quindi avremo una più chiara indicazione su quale sarà l'andamento economico negli Stati Uniti d'America. Avremo anche il dato sul tasso di disoccupazione che in realtà è atteso già al 5.6 per cento quindi in ribasso di due punti percentuali rispetto al dato precedente. Infine ci si attende anche un aumento delle unità per i non farm payroll quindi sostanzialmente le attese sono positive. Quello che andiamo a fare oggi quindi è il recap settimanale quindi spostiamoci sulla piattaforma per vedere quali sono le operazioni che abbiamo ancora in pancia. Sulla gamba sinistra abbiamo le nostre posizioni ribassiste, abbiamo uno short sul Nasdaq, uno short su Unicredit e uno short sul Futsimib. Quindi sostanzialmente siamo siamo molto più sbilanciati sul fronte europeo che sul fronte americano. Abbiamo un'operazione di copertura per lo short sul Nasdaq con un long su Tesla quindi spostiamoci sulla gamba destra e infine abbiamo un trade rialzista sull'oro, un trade che comunque insomma rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi visto che al momento è l'operazione che è ancora in perdita considerato comunque l'andamento dell'oro. Ottime soddisfazioni invece per quanto riguarda lo short su Unicredit e sul Futsimib, quindi sul versante europeo, siamo al momento in guadagno. Quello che andiamo a fare oggi è semplicemente andare a rivisitare la strategia su Eurodollaro, quindi spostiamoci sul grafico per vedere appunto quali sono i livelli operativi. Oggi proponiamo uno short sul sul cambio Eurodollaro, questo perché il cambio viene comunque da una discesa molto importante, quindi dopo il rimbalzo a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni mi aspetto comunque una continuazione appunto del trend di breve periodo ribassista. Mi aspetto comunque un allungo anche nel nostro target ha impostato a 1,17, secondo me è un livello molto interessante per attenderci ulteriori acquisti sul cambio, ci posizioniamo a ribasso con un livello di ingresso a 1,18,7 perché secondo me è un buon livello per tornare insomma a valutare diverse operazioni ribassiste, visto che da questo livello abbiamo visto un cambio che è ripartito in modo molto debole, quindi alla rottura di questo supporto ci si possono aspettare ulteriori ribassi. Uno stop loss sopra i massimi a 1,19 e 800. Andiamo sul sito di BMP Paribas per vedere infine qual è il certificato che andiamo a proporre, un certificato che ha una leva molto bassa rispetto agli altri certificati che propone BMP Paribas, quindi parlo del certificato che termina con il codice PS8 con una leva a 7,35, un knock out a 1,35 quindi un knock out che ci dà ampio respiro, massima libertà per attenderci ulteriori sviluppi, quindi una distanza del 14%, una scadenza al 17,12 e infine un prezzo denaro che quota 1,37. Torniamo sulla piattaforma per eseguire infine il nostro trade, un trade che verrà eseguito a un prezzo di 1,31 per 763 pezzi. Eseguito il trade andiamo a fare un veloce recap dell'operazione di oggi e abbiamo detto che il sottostante è il cambio euro-dollaro per una strategia ribassista, un livello di ingresso impostato a 1,18,7, stop loss 1,19,8 e infine un target a 1,17. Per oggi è tutto, io come sempre vi do appuntamento direttamente a lunedì e vi auguro buon trading a tutti.